Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. 2018 gentiloni, 3,3 miliardi mai erogati. Ma da un anno all'altro c'è stato il taglio o no? No, adesso io ho trovato questi di dati. Questa è la domanda. Ma la stinca di il fact-checking, poi se non gli piace non gli torna. Se io guadagno 1.000, l'anno prossimo 1.100 ho aumentato di 100. L'hai chiesto, prenditelo e basta. Dati della fondazione Gimbe. Ma sì, ma ha fatto sempre sulla promessa, è l'aumento mancato, non è il taglio. Sono due concetti grammaticalmente diversi. Hai fatto la tua figurita, basta. Grammaticalmente, l'economia, Donzelli, non è roba tua, ma la grammatica sì. Va bene, va bene. Siete sereni. Siete sereni. Prima l'italiano. Ci vuole un po' di dibattito? Certo, non mi allineo alle altre trasmissioni. Ora, e poi se no sarei tutto uguale. No, io direi...